Allora ragazzi siamo arrivati al video contest che darà 10 euro ad uno di voi La possibilità a uno di voi di vincere 10 euro da spendere come meglio volete Volete giocarli sul pc, sulla console, sull'xbox? Non c'è problema Cosa dovete fare? Dovete commentare questo video Non ci fregherete più, vogliamo l'email Mi raccomando, commentate con la vostra mail E noi vi contatteremo, non ci contatterete voi Bravissima, bravissima Vi ricordo ragazzi che è valido solamente il commento La persona che avrà un solo commento Mi raccomando E nel commento che noi possiamo andare a vedere Ci dovrà essere solo ed esclusivamente la vostra mail Bene ragazzi, commentate Ciao